Non ho parole Non ho parole per descrivere questa squadra di ebbeti Questa squadra di campagnoli Questa squadra di pastori Perché Cioè domani è Pasqua Domani si fanno le scampagnate Non oggi Oggi servivano i tre punti Voi che cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Mi sembravate dei morti viventi Il Parma ha subito gol Tre gol dal Frosinone Subiva gol come se non ci fosse un domani Non vinceva da 27.000 giornate il Parma Noi andiamo là A farla scampagnata Facciamo due tiri in porta in tutta la partita Perché nel primo tempo non abbiamo fatto un tiro Nel secondo tempo abbiamo fatto un tiro C'era no group Un tiro Tanto a chiamarlo tiro Abbiamo fatto un passaggio a sepe E poi abbiamo fatto quel gol che manco noi sappiamo come abbiamo fatto Ma abbiamo fatto cagare Il Parma meritava la vittoria Manco il pareggio Manco il pareggio Abbiamo fatto schifo Vi dovete vergognare Oggi se la Roma vince ci supera Ma vi rendete conto che mi tocca tifare Inter Mi tocca tifare Inter Una cosa che non succederà mai più penso in tutta la mia vita Mi tocca tifare Inter Stasera altrimenti la Roma ci supera Ci supera E la Roma ha fatto schifo tutto l'anno Non so come va a star là Non riesco proprio a concepire questo fatto Facciamo veramente cagare Facciamo veramente cagare Oggi io me lo prendo con gattuso Perché? Perché non abbiamo gioco offensivo Quel gol che abbiamo fatto Se lo sono creati i giocatori Non era uno schema Che era di un allenamento I giocatori l'hanno deciso di fare quel gol Non c'è stato nessuno schema Un tiro abbiamo fatto Gattuso Ma cosa cazzo fai? Io non ci riesco a credere Con sti cazzo di passaggi dietro 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 A noi non vi è piaciuta la lezione Di Di Genova Con quel cazzo di gol preso dal primo minuto Porca puttana Oh mi sono rotto le palle Mi sono rotto le palle Di verità Scuola di morti Che noi che contro l'Asa abbiamo vinto Con un rigore Con un rigore Cioè non è che abbiamo fatto chissà che cosa Non è che abbiamo fatto chissà che azione Abbiamo vinto con un rigore Cioè ma dove ci presentiamo Ma dove ci presentiamo Oggi dieci Undici cadaveri Undici cadaveri Poi vabbè Bruno Alves Non lo so Tirare punizioni meglio di Ronaldo Lì poi vabbè Sulla punizione Molte se la sono presa con Borini Perché ha fatto fallo E ci sa Perché comunque Borini non doveva commettere Con un fallo stupido Ma andate Vedete l'azione prima Chi l'ha commessa È entrato Non mi fa dire quella parola È entrato Biglia È entrato Biglia Non so perché Comunque Ha perso palla E poi si è scaturita la punizione Perché è un contropiede Biglia È un regista Dovrebbe essere Un grandissimo regista Di grandissima esperienza Perde palla Vabbè Contro il Parma Scaturisce la punizione Poi Bruno Alves Non so Peggio di Ronaldo Fa gol Io non me voglio prendere con Borini Perché Borini Penso che sia stato l'unico Che oggi si è impegnato Comentato Cutrone Anche lui si è impegnato Cutrone è rimasto Nonostante Se l'ha fatto male All'Anca Ma Torini Per me oggi È stato uno dei migliori Per me è stato uno dei migliori Perché si è impegnato Ho visto molta gente Oggi camminare Ho visto molta gente Camminare Comunque Mi fate schifo Oggi devo Dovrò ti fare Inter Per mettere conto Della concezione Che mi tocca Ti farei Inter Niente Fate schifo Per me è stato uno dei migliori